Una sfida è investire sulla propria terra ma una sfida che va supportata. Sì, come sempre succede in questa terra il supporto deve essere non solo di carattere economico ma deve essere un supporto di carattere legislativo, organizzativo, di pianificazione, di comunicazione, di marketing. E' questo quello che ha bisogno la nostra regione. E devo dire che questo oggi è un momento particolarmente felice perché la riapertura di una struttura ricettiva è sempre un momento di festa che diventa ancora più preziosa grazie a questa struttura che è una struttura storica. Insomma la si può considerare sicuramente un gioiello della città. E il fatto che lo faccia una giovane società di gestione turistico alberghiera mi sembra che sia l'auspicio migliore praticamente per chi in questa terra continua a credere, vuole intraprendere e vuole ancora continuare ad investire.